Cos'era una volta? Ho lavorato per il Festival, ho lavorato per il CNR, ho scritto alcuni libri, altre cose che in un lato è meglio dimenticarvi, ma dall'altro lato mi piace sempre di più. Ah, poi purtroppo sì, purtroppo, purtroppo, ce ne sono stati due, la prima tranquilla è purtroppo la seconda, da quando mi sveglio è stato impossibile parlare, leggere, capire, assolutamente niente. All'inizio mi avevano detto che si sbagliavano, mi dicevano che non potevano operare, mi dicevano che ci sono dieci anni e comunque la cosa pazzesca è che la dottoressa piangeva, lei piangeva e io no, e quindi la cosa particolare è quella lì, la abbracciavano, ma no, dai non far così, eccetera. E io ho detto, prima riuscivo a fare questo, questo e questo, devo riuscirci a, magari non ammetterci proprio quello, però almeno, più o meno, devo farcela. Posso parlare, penso, insomma, non perfetto, però scrivere, leggere, mi sto, più o meno, dai, più o meno. C'è il tango che facevo dieci anni e la fisica, la matematica che anche quella lì dà tantissimo. Le due cose mi hanno aiutato a dire la verità, perché allora per il tango me ne uscivo tutte le sere e tutte le sere parlavo con i ragazzi che ci sono intorno a me, certo all'inizio facevo due parole e basta, tipo salve, arrivederci e basta, no, quando veniva bello. E le matematiche mi è piaciute ancora di più, perché ho appunto ricominciato di andare in giro a fare matematiche in modo diverso da scuola, sempre, e una cosa incredibile è che io penso di aver cambiato, cioè una cosa in cui mi doveva venire voglia, allora, anzi allora dovevo essere più intelligente se vogliamo, però hanno venuto alcune cose banali, alcune cose facili, alcune cose che potranno delle nuove di matematica. In cinque anni ho finito il dottorato in matematica e l'ho fatto, scrivendo più di un libro, ovviamente non come prima che mi metto lì al coso, è velocissimo, quindi un comportamento piano, allora uno è per me, è per la mia storia. E poi ho scritto matematica e arte, che è soltanto uno, che saranno in futuro, ce ne saranno anche di più. Ne esistono tanti purtroppo in questa storia. E purtroppo, e per fortuna, io non so più neanche cosa dirvi, la cosa importante è riuscire a uscire fuori. Per fare questo bisogna farlo e basta. Non ci sono mille scuse che cosa fare, bisogna farsi così. Purtroppo la nostra vita, una parte della nostra vita saranno questa cosa e niente di più. Bisogna tornare come prima e poi dopo di nuovo si va. E tante volte, tante volte, tantissime volte, quando ci torniamo indietro, si sa anche migliore, anche di me, dicono tante volte che appunto io sono più simpatico adesso, sono più così allegro. Cioè, dovrebbe essere il contrario, dovrebbe, no? E invece lo faccio così. È l'unico modo per farlo.